il famosissimo cornetto a forma di cubo che forma strana però amici benvenuti in canada qui abbiamo un cornetto con la granella di pistacchio poi abbiamo anche il cornetto a forma di cubo poi abbiamo questo qui al mango che c'è la forma di ruota e poi hanno questa ganache un ripieno con la crema poi abbiamo le novità del mese che sono questi cornetti sempre ripieni con la ganache a crema eccolo qua il famosissimo croissant a forma di cubo questo fa il cornetto a forma di cubo e poi abbiamo preso anche questo qui guardate che bello questo qui è un cornetto al pistacchio con tutta la granella di pistacchio sopra adesso li proviamo e vediamo come sono proprio qui da siamo a toronto a kensington market ecco amici ecco il famosissimo cornetto a forma di cubo che forma strana però è la prima volta che lo assaggio qui siamo a kensington market a toronto e proviamo questo cornetto com'è tanto che è molto croccante wow è croccantissimo guardate all'interno è una bomba stupendo adesso lo associamo anche molto croccante però veramente molto soffici all'interno ci abbiamo una crema una crema alle mandorle come vedi ricevamo anche tutte le piccole mandorle sopra ma è buonissimo questo cornetto l'ho pagato quando abbiamo pagato 11 dollari 11 dollari è grande enorme guardate all'interno che cosa c'è è pieno di crema veramente molto succoso ma è proprio croccante vi dico la verità un po complicato a mangiarlo perché abituati noi alla forma del cornetto normale questo qui a forma di cubo è un po strano però guardate poi come è stato fatto ottimo adesso proviamo anche il cornetto al pistacchio però guardate quanta granella ci hanno visto sopra è buono e si sente il sapore del pistacchio tostato veramente molto buono